Ciao a tutti ragazzi, buon ciao, buon pomeriggio, buonasera, benvenuti sulla mia pagina Facebook Settino Official Page, spero di non dimenticarmi il nome della mia pagina Facebook altrimenti è una bella figura di merda Ragazzi oggi, come se sentite in sottofondo che c'è la canzoncina di FIFA 15 lo so che lo sentite se non lo state sentendo ve lo dico io c'è la canzoncina di FIFA 15 sotto e niente ragazzi, un video oggi sulla mia pagina Facebook dove andiamo a mangiare insieme delle patatine molto particolari che si chiamano Mele Chips che vuol dire Mela Chips sono delle patatine cioè la mela cioè la mela è la patatina e la patatina è la mela cioè non so se riuscite a vedere la mela che diventa non lo so ragazzi che cosa hanno combinato c'è un mix di mele e patatine insieme ragazzi la prima cosa che ho notato io ancora non ne ho mangiate neanche una guardate come sono cioè sembra quando la fine quando quando usate il te quando temperate una matita quello che vi esce dal temperino eccolo ecco cosa sono fatte le melacce sono fatte di matita la pellicola la pelle della matita cioè questa in pratica madonna mia ragazzi andiamo a seggiare insieme ragazzi è un sapone strano le patatine dolci ma che what the fuck oh mio dio c'è una cosa verde qui sopra non si vede una caccola si mettiamo da parte non mi piaccia perché sono ingollate no ragazzi il delirio qua dentro guardate quante patate quante patate sono state uccise per fare queste patatine peccato rip rip matatine ma perché dico patatine matatine oh ragazzi rip matatine rip salvate le matatine oh cazzo misera salva chiamate il numero in sovraimpressione 333 333 chiamate il numero in sovraimpressione 666 666 666 gay per salvare le povere matite nel mondo che vengono uccise per deliziare il palato di erbivori nel mondo mi raccomando è gratuito la chiamata costa soltanto 50 euro al minuto forza ragazzi facciamo un atto di buona volontà facciamo un atto di buona penna e salviamo queste povere matite qui è tutto da Sotirion io vado a chiamare ci vediamo al prossimo appuntamento vi metto il link del mio canale youtube sotto o sopra dipende da dove andrò a incollarlo e ragazzi condividete il video per far conoscere a tutti la verità per far conoscere a tutti come vengono fatte le Mena Chips il segreto oscuro delle Mena Chips come down a break in the weather grazie a tutti